Ciao, nella vetrina di questa settimana del nostro usato vi presentiamo tre prodotti, tre obiettivi uno in casa Nikon 142428 a 1450 euro con un anno di garanzia successivamente abbiamo un 100-400-34556 serie L a 1050 euro anche lui con una garanzia di sei mesi ed infine un prodotto Sony 7300 SSM a 700 euro per visionare da vicino questi obiettivi potete andare sul nostro sito shoponline.fototretaceni.com e adesso guardiamoli bene nel dettaglio Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!